Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene e che stiate passando tre belle giornate. È arrivata la conferma ufficiale di un'importante cessione della Juventus. Importante non perché dà tanti soldi alla Juve, importante non perché la Juventus essenzialmente aveva qualcosa di importante da fare da questa cessione, ma per le dinamiche, per le situazioni, per i dialoghi, per i litigi anche e per ovviamente le varie visioni che ci sono state all'interno comunque del contesto. Vi spiego un po' quello che succede. È partito Shiboso. Shiboso ragazzi è un giocatore che secondo me ha fatto benino nelle nostre giovanili e se non sbaglio insomma l'abbiamo visto in azione. È un'ala eccetera eccetera e a prescindere da tutto è stato ceduto all'ambience. C'è tutta una trama nel senso che c'è stata tutta una discussione o qualcosa di lì che io vi spiego fra poco. Prima di iniziare come al solito ragazzi io volevo invitarvi a iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la solita campanellina delle notifiche. Mi raccomando la campanella. Campanellina ragazzi che cosa serve? Ogni volta che pubblico un nuovo video vi arriva la notifica sul cellulare. Quindi se vi va fate questa cosa per quanto riguarda il canale. Poi ovviamente io vi invito a guardare la descrizione che è importante perché nella descrizione trovate OneFootball che è l'app numero uno dedicata al calcio. La migliore app che ci sia e poi trovate anche i miei social. Quindi se vi va fate questa cosa qua. Allora io voglio fare un discorso un po' generale. Voglio essere un po' sai un po' duro, un po' severo oggi nelle varie situazioni. Voi sapete quanto io ci tenga al progetto giovani. Cioè non sono uno di quei fissati che attacca i giovani. Ok? Perché sono giovane pure io perché dovrei attaccare i giovani. E non sono neanche uno di quelli che a un certo punto vorrebbe vedere la squadra in campo tutti under 16. Cioè non sono quel tipo. Io penso che i giovani vadano integrati col tempo. Poi ci sono dei giocatori che vanno integrati subito tipo Rovella e ci sono, perdonate, tipo Miretti. E ci sono dei giocatori invece che hanno bisogno di tempo. Tipo che ne so potrebbe essere un Sule, un Devinter eccetera eccetera. E poi ci sono giocatori che invece non sono secondo me da prima squadra. E per me Shiboso non era da prima squadra. Quindi tutte le lamentele che io sto leggendo su Shiboso online da parte di alcuni tifosi della Juve che si stanno disperando per Shiboso. Cioè se stanno a far venire le crisi per Shiboso. Io veramente non la capisco. Cioè rispetto lo stato d'animo di queste persone. Mi dispiace se l'avete presa male, se l'hanno presa male. Però davvero non capisco. Su sto giocatore, sapete quali erano le squadre interessate a questo giocatore? L'Amiens, una squadra spagnola di bassissimo livello e ci aveva un'offerta da Dubai. Da un campionato, quello è il campionato arabo, da una squadra di Dubai che gli offreva un contratto molto più ricco. Ma il ragazzo ha 18 anni, a un certo punto ha messo sul piatto della bilancia le cose e ha detto Cosa voglio fare nella vita? Voglio giocare in Spagna? No. Voglio giocare lì all'Amiens? E ha cominciato a pensarci. Oppure voglio giocare a Dubai? Voglio guadagnare una marea di soldi? Rinunciando di fatto ad essere un vero elemento di questo sport? Perché comunque il ragazzo ha 18 anni, deve andare a giocare a Dubai? Con tutto il rispetto deve andare a fare la vacanza, non deve andare a giocare a pallone. Quindi cosa voglio fare? Alla fine lui ha rinunciato al denaro in più che gli avrebbero dato a Dubai per andare a giocare con l'Amiens. La Juventus incassa un milione più una percentuale abbastanza alta, se non sbaglio, sulla futura rivendita. Quindi la Juve ha chiuso, insomma, guadagnando qualcosina. Ora, la cosa peggiore che tu possa fare con un giovane, la cosa peggiore che tu possa fare con un talento di qualsiasi età, di qualsiasi disciplina, di qualsiasi... La cosa più... di qualsiasi comportamento... Allora, la cosa più stupida che una persona può fare con un ragazzo giovane che ha talento in qualcosa è pompare quel ragazzo. Pomparlo. Cioè, rendere quel ragazzo più importante, più grosso, più forte di quello che è. Perciò io sono uno di quelli che si arrabbia quando sente investiture tipo Miretti è il nuovo Pirlo. Perché così tu il ragazzo lo stai rovinando e non te ne rendi neanche conto. Non è una mia opinione. Non è una cosa che sto pensando io. Ma è una cosa logica. Se tu carichi il ragazzo di aspettative, quel ragazzo tanto puoi trovare un ragazzo che ha la mentalità giusta, tanto puoi trovare un ragazzo un po' più timido che si fa e crolla. Allora, lasciate che vi spieghi una cosa molto importante su Shiboso. Shiboso era un buon talento. È un buon giocatore. È un ottimo esterno per quanto riguarda, diciamo, una squadra che gioca con gli esterni. Quindi dipende dal modulo che tu usi. Però, raga, bisogna cercare di capire. Ed è una cosa che vi dico veramente. Che non tutto quello che noi abbiamo nel settore giovanile è oro. Sule è un grande talento. Un po' timido. Quest'anno ha fatto una stagione un po' così. Però tu lo vedi che c'ha talento. Lo vedi che qualcosina in più rispetto agli altri ce l'ha. Miretti? È piccolino. C'ha 18 anni. Ma tu lo vedi che quel ragazzo c'ha qualcosa in più rispetto agli altri. La prova è entrata in prima squadra. E Allegri lo vuole tenere in prima squadra. De Winter è un giocatore che probabilmente verrà ceduto in prestito. Però lo vedi che c'ha qualcosa di più rispetto agli altri. Forse non sarà un top. Ma lo vedi che c'ha qualcosa di più. Ma non è che tutti i giocatori dell'Under 23 che noi abbiamo sono tutti i fenomeni. Esistono giocatori che sono adatti a quel livello. Giocatori che sono da serie B. Giocatori che sono da serie A ma non da Juve. E poi giocatori che sono da piccoli club e giocatori da grandi club. E giocatori forti. E giocatori meno forti. Cioè su mille giocatori che tu hai a disposizione. Pensare che tutte e mille debbano entrare in sta prima squadra. È veramente ambizioso. Cioè ci avete un ottimismo ragazzi clamoroso. È impossibile. Ma questo funziona ovunque così. Funziona ovunque. Voi sapete che la Juventus quest'anno è stata la prima squadra in serie A per l'impiego di Under 23. Stiamo parlando di una squadra che ha schierato 12 Under 23. La seconda squadra è il Milan. Se non erro. E la Juve è seconda per minuti fatti giocare. Nel senso che la Juve è la seconda squadra in Italia per il minutaggio concesso agli Under 23. Quindi giovani esordienti che hanno giocato minuti, meno minuti. La Juve è seconda in classifica. La prima è il Milan. Che ha dovuto fare di necessità virtù a livello di bilancio. Ma la seconda squadra è la Juve. Quindi st'idea che la Juve non dia fiducia ai giovani. Che la Juventus sia contro i giovani. Che la Juventus vada a danneggiare i giovani. È un'idea che è nata su internet da parte di gente che vuole fare solamente polemiche. Perché bisognerebbe guardare ai dati e alle statistiche. Tutto qua. Poi ragazzi. Ma sapete quanti giocatori giovani la Juve ha avuto nel passato? Che erano dipinti come fenomeni? E adesso io non so neanche dove si trovino. Allora bisogna cercare di capire una cosa. Su mille giocatori, uno è Del Piero e 999 su non lo so. Giocatori che non vedi. Giocatori che poi vedrai in serie B, in serie C o all'estero. Io non capisco tutta questa disperazione per Scimoso. Davvero non la capisco. Cioè manco avessimo ricevuto un Mbappé. Gente che mi ha scritto in direct su Instagram nel momento della notizia. E mi ha scritto Matt. All'armato, un paurito. Sapevate tu? Sta gente era ansia. Ma come hanno fatto venire l'ansia? Ma te hanno ceduto Shibos? Oddio santo Benedetto. Noi siamo rovinati. Vedi? Questa è la conferma. Che la nostra dirigenza è una dirigenza che non ha senso. Come si fa a cedere un giocatore così straordinario? Così meraviglioso? Così fantastico? Io sapete cosa ho risposto? Ho detto scusami per un secondo. Ma questo ha 18 anni ed è un ottimo giocatore per il livello a cui si trova. Ma secondo te se Shibosu fosse stato un fenomeno? E non vale solo per Shibosu. Vale per qualunque altro giocatore sulla faccia della terra che viene ceduto dalla Juve giovane. Ma secondo te uno non se ne accorgeva. Due. Ma andava all'Amiens. Shibosu se fosse stato sto fenomeno qui sarebbe stato conteso dai top club europei. Non sarebbe stato conteso dall'Amiens. E da Dubai. Qua dovete ragionare e dovete dire. Vabbè metta dal suo punto di vista e allora forse la pensa così. Raga. Guardate. Che l'Under 23 è un progetto giovane. È nato qualche anno fa. È normale che ci siano degli anni in cui si crea poco. Si crea niente. Col tempo cominceremo anche noi a creare talenti di livello. Ma col tempo vuol dire che serve tempo. Non è che l'anno prossimo comincio a creare una squadra piena di Under 23. Pure a me piacciono i giocatori della cantera e del settore giovanile. Cosa credete? Che io sia contrario a queste cose? A me se domani non me lo vedete Miretti. Miretti guai chi me lo tocca. Miretti è un giocatore che per me deve restare alla Juve per tanti anni. Perché Miretti è uno di quelli che ha personalità per giocare all'interno della Juve. Ma non sono tutti Miretti. Non sono tutti Sule che sono buoni giocatori su cui tu puoi lavorare. Esistono giocatori su cui tu puoi lavorare e giocatori sui quali tu non puoi lavorare. Poi ragazzi se Sule l'anno prossimo viene ceduto, perché è una cosa che tu devi capire, può essere che Sule sia stato ceduto perché forse non ha maturato dal punto di vista tecnico. Ma credere che la Juventus vada a cedere dall'Under 23 dei top player è veramente di una banalità clamorosa. Ma non ce l'ho con voi, non sto a parlare di voi. Io sto a parlare con la gente sul web che ha voglia di fare polemiche ogni due minuti. Qualunque giocatore la Juve compri è scarso, finito o a fine carriera. Qualunque giocatore la Juve ceda è un fenomeno. Ma così non funziona, così non si va da nessuna parte. Cibozzo, manco mezza presenza in prima squadra, fenomeno. Ache? No, Ache non va pe, eh. Ache non va pe. Ache bisogna da guai se la Juve cede Ache. Ma Ache ha 23 anni, ha giocato in serie A francese e l'hanno venduta la Juve. È arrivato qui, ha fatto l'Under 23, sono detto in prima squadra. Voi trovereste senso del mettere Ache in prima squadra? Io no. Ma non perché io sia contrario ad Ache, ma perché capisco che questa è la Juve, non è il crotone. Non è il pizzichettone. Non è che si può dare una chance a chiunque sia dotato di velocità. Bisogna dare una chance a chi è pronto. E non ci sono così tanti giocatori pronti sulla faccia della terra come pensate nell'Under 23. Non è che l'Under 23 è popolata da fenomeni. Ci sono giocatori buoni, giocatori da Juve, giocatori non da Juve. Cavolo ragazzi, qua bisogna un po' cercare di ragionare anche a livello di razionalità, non di farsi abbagliare dei titoli di giornale. Perché farsi abbagliare dei titoli dei giornali è una cosa che è normale, è lecita. Ma lo potete fare voi che siete persone che comunque giustamente vi arrabbiate perché siete tifosi. Dicevano andaggia la miseria, io sono tifosi della Juve, voglio vedere X, voglio vedere Y, voglio vedere quei... Però poi voi siete anche persone che se ci ragionate su, dite, vabbè, però... Ma era davvero sto fenomeno, sto tizio qui? Quindi siete persone talmente intelligenti che io sto video qua manco lo dovevo fare. Ma l'ho fatto perché ci sono persone che si stanno disperando per shiboso. Ma siamo seri? Cioè, se lo va a dire a qualcuno, te prende in giro fino a domani che ti è stata disperata per shiboso. Ma davvero? E' su. Un po' di elasticità, un po' di non so che dirvi. Cioè, veramente ragazzi, non dobbiamo concentrarci su questo, dobbiamo concentrarci su altro. Fatemi sapere. Cosa ne pensate? Nei commenti. Perché poi c'è gente che dice, giustamente dice... Dice, ma tu però, per te nessun giovane è valido. Ma no, ma non è vero che nessun giovane è valido. Ce ne sta pochi. Raga, io su sto canale qua, tre anni fa, tre anni fa, quando ancora non c'era tutta questa attenzione, eccetera, eccetera, io avevo fatto un video dedicato a Miretti, che mi si è dimenticato come si chiama il titolo, ma è dedicato a Miretti. Che dura pochi, dura cinque minuti, in cui io presentavo il ragazzo. Sapete cosa dicevo? Miretti aveva quindici anni. Sapete cosa gli dicevo? Ho visto sto ragazzo? Secondo me sto ragazzo è arrivato in prima squadra, perché secondo me c'ha tutte le qualità per arrivare in prima squadra. È arrivato in prima squadra. È arrivato in prima squadra. Perché tre anni fa io mi sono esposto così tanto su Miretti? Perché ho visto giocare Miretti e ho detto, porca miseria, sto tizio qui, lui c'ha un bel talento. Lui è quello che potrebbe veramente arrivare in prima squadra. Ma non l'ho detto perché Miretti mi stava simpatico, oppure se mi sta simpatico è un altro discorso. Ciao Fabio. Ma comunque l'ho detto per una questione relativa al fatto che, avendolo visionato, ho visto qualcosa in più. Io sono molto trasparente sulla situazione dei giovani, ragazzi. Io ve lo dico se un giovane è forte o se non è forte. Non c'ho bisogno di mettermi in giro a fare polemiche. E ti dico che Shiboso non è da prima squadra. Punto. Quindi lascia stare disperarti l'anima per Shiboso. Ma chi te lo fa fa? Ma che te frega? Vai al mare, mangia un ghiacciolo, bevi qualcosa. Va da offerta con una bella ragazza o con un bel ragazzo che non so che te piace. Vai fuori, gioca, godi che arriveranno grandi giocatori. Ma lascia perdere Shiboso. Appapà, lascia perdere Shiboso. Fatemi sapere voi cosa ne pensate.